Arezzo sarà protagonista del Giro d'Italia del 2016 e quindi è una grande soddisfazione, è un grande ritorno, è una grande opportunità per la città, avremo due ore di diretta Rai, quindi la possibilità anche di approfittare di questa presenza sportiva per valorizzare il territorio. La Maglia Rosa torna a far tappa ad Arezzo dopo oltre dieci anni di assenza e il Giro d'Italia non solo passerà dal territorio aretino ma si fermerà in città con l'arrivo di una tappa. Era dal 2003 che Arezzo non ospitava un arrivo della Corsa Rosa che vede vincere in volata il re Leone Cipollini. Nel 2004 fu il comune di Civitella ad ospitare, grazie alla passione della famiglia del Tongo, l'arrivo e la partenza della quarta e quinta frazione di gara. Da allora la Corsa Rosa aveva soltanto attraversato e toccato di sfuggita il territorio aretino che nel frattempo è salito alla ribalta per gli arrivi della Tirreno Adriatico grazie anche in questo caso alla passione di Pasquale Morini della Marconi Arredamenti. Lunedì 5 ottobre sarà l'Expo di Milano ad ospitare la presentazione dell'edizione numero 99 del Giro d'Italia alla quale prenderà parte anche l'assessore allo sport del comune di Arezzo, Lucia Tanti. Riusciremo a fare di questa occasione un grande elemento di sviluppo per la città di Arezzo. Il turismo sportivo continua ad essere una leva grande di opportunità, abbiamo avuto un grande regalo e ce lo meriteremo. Secondo i beni informati la carovana del Giro d'Italia arriverà ad Arezzo il sabato 14 maggio dopo 169 km di forza con partenza da Poligno. Tra le maggiori insidie il Monte Rogana, la salita di Santa Maria alla Rassinata, Palazzo del Cero, il Torrino, Arezzo e anche un tratto di strade bianche prima dell'arrivo in città.